tante fiaccole accese per non dimenticare per ricordare una ad una le vittime del terremoto che il 31 ottobre del 2002 colpì san giuliano di puglia e proprio in onore dei 27 angeli della loro maestra che si è svolta la fiaccolata che ormai da ben 12 anni si ripete con lo stesso spirito una processione lungo i luoghi della memoria per tenere vivo il ricordo che non sfiorisce in tantissimi hanno voluto prendere parte alla silenziosa fiaccolata tra preghiere e grande emozione alla fine della fiaccolata e molti sono rimasti per la veglia nella chiesa di san giuliano di puglia fino alle prime ore della giornata con la celebrazione della messa Grazie a tutti